Attrarre le imprese per rilanciare l'economia torinese. Questo il nuovo progetto della Camera di Commercio e dell'Unione Industriale di Torino che avviano una ricerca per rilanciare l'immagine della città. Per molti decenni Torino, infatti, è stata la sede di numerosi investimenti esteri, mentre negli ultimi anni la sua capacità attrattiva è calata. Molte imprese si sono trasferite oltre i confini regionali, allettate da facilitazioni o incentivi. Le associazioni di categoria cercano dunque di invertire questa tendenza e creare nuovi posti di lavoro rilanciando l'economia locale. Per il presidente dell'Unione Industriale, Gianfranco Carbonato, è stata proprio Torino a sentire di più gli effetti della crisi, ma non per questo ha smarrito i suoi fattori di eccellenza. Ecco perché un'indagine di settore potrà servire a rilanciare questi fattori per farli tornare ad essere attrattivi per gli investitori. Allo studio parteciperà anche CEI Piemonte, centro dedicato allo sviluppo del territorio su scala nazionale e i risultati sono previsti per la fine dell'anno. Il progetto è articolato in cinque punti. Analisi storica della presenza di imprese estere in provincia di Torino dagli anni 50 ad oggi, grado di soddisfazione delle multinazionali, analisi della capacità attrattiva della città, politiche di attrazione degli investimenti esteri e individuazione di alcune possibili linee di intervento finalizzate a migliorare l'immagine di Torino nei confronti delle imprese estere. Su questo filone il decalogo redatto dall'API per stimolare la crescita delle piccole e medie imprese del territorio. Per questo genere di aziende, infatti, i primi mesi del 2012 sono stati assolutamente negativi. Oltre il 70% delle aziende non ha intenzione di investire nell'immediato futuro e appena il 7% farà nuove assunzioni, mentre una su quattro prevede di ridurre il personale. È forte dunque la richiesta dei provvedimenti concreti che permettano non solo alla nostra città di ricostruire la propria immagine, ma anche ai nostri imprenditori di aggrapparsi ad un ancora di salvezza per fronteggiare la crisi.